Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora sulla Brutal Tower, questa volta piano 26, un altro muro, ad essere sincero, che almeno per me da gestire in auto mi ha dato qualche difficoltà, perché il piano 22 e il piano 26 per me sono stati i muri più grossi, mettiamola così. Ancora ovviamente devo continuare gli altri piani sperando di potercela fare, ma per il momento questi sono i piani che mi hanno dato probabilmente più fastidio. Il primo con il Behemoth, il B22, era fastidioso perché appunto ha le meccaniche fastidiose. Qui ragazzi addirittura il Gine Attack è anche peggio forse, quindi bisognerà vedere un po' la situazione. Allora, qual è il mio setup? Sephiroth, fisico-vento, con ovviamente arma-vento-fisica come arma principale e come arma secondaria invece quella che mi permetteva la Sheera Military Blade, che mi consentiva comunque di incrementare il mio danno-vento, quindi diciamo una sorta di buff personale, e poi tutte materie che invece mi consentivano di incrementare la difesa magica soprattutto. Boost attacco fisico al 6, boost vento al 6, ovviamente Wind Mastery perché il costume in questo caso di Halloween dava Wind Mastery, anche se io speravo, magari nella seconda parte, un bel rework ad Arcanum, che secondo me potrebbe essere molto figo. E come sub-weapon invece ho messo la Buster Sword per avere HP e attacco generico, l'Apocalypse per avere attacco generico e boost vento, e poi la spada di Shiva che mi consente di avere HP e Fire Resistance perché qui comunque il Fire Resistance è abbastanza importante. Infatti come potete vedere faccio vedere anche le Refined, faccio vedere tutto, MET invece è al solito centipede con Core Defender, quindi difesa fisica, difesa magica e cure in contemporanea, tutte materie che anche in questo caso aumentano la difesa magica e Ultimate Weapon. Come potete vedere abbiamo appunto boost HP, boost healing al 10 e anche il boost fuoco, che è tanta roba. Sub-weapon, siringone per avere HP e buff e debuff extension, il collare di Red per avere healing e buff e debuff extension, e poi invece la spada di Gilda di MET per avere difesa magica per tutti e resistenza tuono che però non mi serve un granché. Dall'altra parte invece sono andato con Cloud, praticamente col vestito di Bahamut, la Stream Saber come arma principale per incrementare l'attacco fisico di tutti, e poi la Bahamut Blade come seconda che è utilissima soprattutto per i minion quando appunto verranno evocati praticamente i minion. Quindi boost attacco fisico purtroppo solo al 3, abilità al 4, qui veramente Cloud purtroppo è diciamo un po' più forte semplicemente perché appunto la Stream Saber mi permette di incrementare l'attacco fisico all e quindi mi consente di avere un bel bonus, ma purtroppo l'attacco fisico viene incrementato dalla Cerimonial, la Norten Blade che mi consente di avere difesa magica e poi i guanti di Tifa che mi consentono di avere HP e difesa magica. Tra l'altro la Norten Lights mi permette di avere difesa magica e resistenza a fuoco in un'unica arma che è praticamente perfetto, e infatti per quanto riguarda le statistiche abbiamo 186 addirittura di difesa magica, 4.000 soltanto di attacco fisico e 10.300 come HP, quindi un po' bassini. Mentre invece Matt abbiamo 13.000 HP con 165 di difesa magica e 3.600 in healing, quindi lui è praticamente perfetto per questo stage. e poi invece Sefirot abbiamo 12.700 HP con 5.500 punti di attacco e 145 punti di difesa magica, quindi un po' più bassa la difesa magica, però un po' più alta la resistenza a fuoco e soprattutto gli HP, che mi consentono bene o male di bilanciare la situazione. Passiamo al combattimento. Il combattimento col G-Attack è veramente fastidioso, è veramente fastidioso perché possiede tutte le meccaniche più brutte del gioco, il Doom, i danni, i minion, veramente una roba incredibile. Primo attacco, Curse of the G, che è un'altra di quelle meccaniche fastidiosissime, che infligge lo status Dread, quindi praticamente la nostra stance non funziona, fondamentalmente la nostra stance non funziona, quindi subiremo più danni, faremo meno danni, tutto come se non avessimo nessun tipo di stance. Come potete vedere Cloud alterna praticamente gli attacchi tra Bahamut e Stream Saber in base agli HP che possiede, perché vi ricordo che il suo effetto si attiva solo con il 50% di HP o più. Sefirot invece si buffa e poi successivamente continua ad attaccare. Qui, ragazzi, parte una delle meccaniche principali da ricordare del G-Attack. Lui praticamente che cosa fa? Vi abbassa la difesa magica, vi infligge l'attacco Firehaga, e poi successivamente vi targetta e carica l'attacco fuoco, quello single target. Quindi qual è la cosa migliore da fare? La cosa migliore da fare è farsi targettare prima dalla difesa magica down e dal fuoco, curarsi, e poi successivamente fare due volte la difesa magica. Quindi come potete vedere io adesso mi curo, lui adesso targetta Matt, io già ho la difesa magica a meno 2, quindi lui fa mana breach per abbassarmi ancora una volta la difesa magica, io vado a meno 1, grazie appunto alla Core Defender OB6, o comunque più dell'OB6, mi fa un'altra volta mana breach e riporto la mia difesa magica a 0. Riportando la mia difesa magica a 0, posso subire l'attacco, e anche avendo comunque la resistenza fuoco, vedete, bene o male, riesco a sopravvivere. Riesco a sopravvivere a pelo, quindi qui che cosa faccio? Aspetto, mi curo singolarmente, visto che comunque la centipede ha la cura singola potenziata nell'ultimo slot, e qui continuo a picchiare ancora con il mio team. Carico le summon, carico tutto praticamente con gli altri, qui Matt cura Cloud prima perché permette di attivare il suo effetto così, poi successivamente rifullo con Cloud, cioè rifullo con Matt, e qui di nuovo, Cloud targettato nuovamente con, con mana breach e poi l'attacco fuoco, e qui successivamente viene targettato con l'attacco soul fire, quindi quello singolo. Quindi, mana breach lo faccio scendere, io poi ripristino più 3 di difesa magica, adesso il nostro avversario effetterà di nuovo mana breach riportandomi a meno 3, e io invece lo porto a 0, quindi più 0. A più 0, con la resistenza fuoco, la resistenza magica che possiede Cloud, praticamente sopravvive. E come potete vedere, viene tolto 8000 HP, una roba simile, quindi direi che ci può stare. Mi vado giù con le summon, perché non voglio tenermele troppo cariche, dato che a metà vita il Gine Attack spawna i minion, quindi le summon poi mi torneranno utili per fare qualche danno ai minion. Anche i minion possiedono un sacco di vita, quindi è un po' fastidioso come combattimento in generale, però purtroppo questo è quello che passa il convento. Qui, dopo questi due attacchi, possiamo iniziare a fare un po' di danni, quindi con Sephiroth attivo l'Ultimate, perché questa è l'occasione migliore per poter fare qualche danno in più. Con Matt, Kuro, senza cambiare stance, proprio per mettermi un po' di difesa fisica, e subire questi attacchi singoli e AoE che fa il nostro avversario, e dopodiché continuo praticamente su questa strada. Qui, Mana Breach che praticamente viene fatto anche a Sephiroth, quindi in questo caso Mana Breach più Sephiroth che Kuro subito, fullo i suoi HP. Qui adesso invece viene targettato Cloud, a differenza di Sephiroth, quindi io sono avvantaggiato in questo caso, perché lui mi fa Mana Breach meno 2, ma io faccio più 3, quindi sono già in vantaggio e vado a più 1. Successivamente lui rifà Mana Breach, che mi porta praticamente con un Malus di meno 1, e io invece vado a più 1, quindi di conseguenza resisto ancora meglio all'attacco rispetto a prima. Quindi superato anche questo siamo quasi a metà vita, una volta arrivati quasi a metà vita, il Geen Attack spawnerà praticamente i Minion, eccolo qua, scudo di rancore, a questo punto andiamo in semi-auto, perché dobbiamo necessariamente targettare il Geen Attack e breccare i sigilli. E' fondamentale breccare i sigilli, quindi facciamo prima summon per bloccare un po' l'animazione Doom, anche se in realtà non serve a tanto, perché ripeto, i Minion hanno tanti HP. Ancora una volta, summon sempre per bloccare l'animazione di Doom e cercare magari di fare qualche danno in più, soprattutto sarebbe stato comodo breccare immediatamente il Geen Attack, però qui purtroppo, alla fine dei giochi, il Doom viene inflitto. A Sephiroth è Cloud, quindi ora è letteralmente una corsa contro il tempo. Oggi è veramente così, cioè questa è proprio corsa contro il tempo, quindi brecchiamo, cerchiamo di fare più break possibili e una volta ripristinata la situazione, rimango in stance d'attacco e continuo a rimanere in semi-auto e targettare praticamente sempre e solo il Geen Attack. Cloud facendo i danni AoE comunque mi aiuta, perché comunque mi aiuta. Qui invece vado su a prendere la mia difesa magica. qui adesso mi riporto a più 3. Lui effettua Fire Haga perché qui adesso lui praticamente attacca AoE, quindi questo Soul Fire è praticamente il Soul Fire AoE. quindi noi siamo comunque con difesa magica piuttosto elevata e riusciamo a subire il colpo. Io qui vado di doppia cura d'emergenza, quindi Centipede più Uncle Ultimate e mi riporto tutti subito a full regime. Altra summon appena caricata subito sparata in faccia per cercare di fare più danni possibili, soprattutto ai minion, perché cerco comunque di buttarli giù piano piano. E Cloud mi sta aiutando tantissimo in questo, infatti come potete vedere Cloud continua a fare danni AoE e continua praticamente ad aiutarmi. Altra summon per fare ancora danni a tutti in generale, ma soprattutto ai minion, anche se, ripeto, facciamo meno danni perché loro sono molto forti dal punto di vista proprio... sono proprio molto forti dal punto di vista di resistenze. Qui con Sephiroth spingo ancora una volta con l'Ultimate perché questa è la parte dove adesso dobbiamo iniziare a picchiare, come giusto che sia. Targetato Cloud, qui facciamo il primo potenziamento che mi consente di arrivare a più 3, tranne con Cloud che sono a più 1. Mana breach ancora una volta, fullo Cloud e poi invece utilizzo la limit. Utilizzo la limit perché sono corto di... ovviamente di ATB, quindi Cloud comunque devo proteggerlo in un modo o nell'altro e quindi abbiamo più 1 come difesa magica. i minion sono morti nel frattempo, quindi ora è tutta una questione di gestire la parte finale. Quindi rimettiamo in auto, ora che non ci sono più i minion, non ho più quella paura di targettare i minion per sbaglio, quindi possiamo ritornare in full auto di nuovo e ci apprestiamo a concludere il tutto. Mancano 300 secondi praticamente per il Doom che scatta, quindi io qua mi faccio prendere un po' di ansietta e cerco di lasciare. Cerco di lasciare il più possibile, cerco di fare più danni, cerco di fare più danni, con Sephiroth inizio a switchare un pochettino per fare qualche danno in più. Anche con Matt inizio a fare qualche error a blow e qui c'è una cosa che mi sono praticamente lasciato sfuggire, ovvero il fatto che l'attacco soulfire viene fatto away. Io ero convinto qui che targettasse solo Cloud e quindi avevo praticamente deciso di non curare o comunque di non andare avanti, avevo deciso proprio di lasciare, avevo deciso di lasciare. Ho rimesso semi-auto, perché ero convinto di poterlo shottare prima in realtà, solo che purtroppo non ci sono riuscito. Con Sephiroth continuo ad attaccare, con Matt continuo ad attaccare, con Cloud continuo ad attaccare, quindi cosa faccio? Con meno uno di difesa magica, switcho in difesa perché ho detto va bene, proteggiamoci, vediamo se sopravviviamo lo stesso, ma essendo un attacco away non avevo calcolato questa cosa, ovvero che tutti mi sono rimasti praticamente in fin di vita, ma fortunatamente diciamo Sephiroth è riuscito a fare il danno giusto e poi a chiudere fondamentalmente l'incontro. Quindi qui ho avuto un pizzico di fortuna verso la fine perché non avevo calcolato quel soulfire away, sicuramente mi sarei difeso e sarei riuscito a sopportarlo meglio a quest'ora, però è andata lo stesso, quindi va bene, ci siamo portati il risultato a casa. Questa era la sfida del B26, spero che possa esservi utile e io come sempre vi aspetto alla prossima. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.